Ciao, sono Francesco Bruno, ho 29 anni e sono un 3D artist. Da oltre un anno lavoro per Mediafarm, azienda di ICT e New Media, che ho avuto modo di conoscere durante l'esperienza di stage fatta prima di diplomarmi. Dopo aver finito il mio percorso di studi, sono stato assunto nel team di questa società pugliese. Grazie al diploma conseguito presso l'ITS Apulia Digital Maker, sono riuscito a realizzare i miei obiettivi professionali.